L'Avellino ce l'aspettavamo così, una squadra che fa 6 vittorie consecutive, un pareggio al novantesimo a Modena dopo che aveva avuto due occasioni per passare in vantaggio, significa che è una squadra in grandissima salute è una squadra che ha delle individualità importanti dal centrocampo in su una squadra che credo per 20 gare consecutive fa gol, non è un caso, quindi non ci aspettavamo niente di diverso sapevamo le difficoltà e avevo preparato i ragazzi proprio ad avere massimo rispetto e massima concentrazione potevamo subito andare in vantaggio con una bellissima azione sulla sinistra, conclusa con Giovo Pedro che ha sfiorato il palo e sull'azione successiva, sui sviluppi di una punizione, L'Avellino è passato in vantaggio Siamo stati bravi subito a recuperare con una bellissima azione sempre dalla sinistra, con Munari che ha chiuso e ha pareggiato e quindi eravamo in partita e stavamo comunque conducendo la gara è normale che quell'episodio l'ha incanalata ancora di più a nostro favore perché rimanere, mi sembra, 20 minuti dalla fine del primo tempo più tutta la ripresa con un uomo in meno, è normale che L'Avellino si è dovuto abbassare ha dovuto pensare inizialmente solo a difendersi e l'ha fatto con un certo ordine, anche se nel primo tempo sicuramente abbiamo avuto delle occasioni per andare in vantaggio paradossalmente invece la ripresa non mi è piaciuta perché almeno la prima mezz'ora abbiamo creato poco siamo stati poco incisivi rispetto a quello che eravamo riusciti a fare sia in parità numerica che nella parte finale del primo tempo abbiamo solo legittimato dopo il vantaggio perché potevamo poi chiuderla in tre occasioni e nel finale ci poteva essere anche la beffa perché mi sembra, non so se Migliorini o Gidai di testa potevano pareggiare. Vittoria naturalmente credo meritata e l'episodio dell'espulsione credo ci stia perché il fallo di mano c'è tutto bloccava un passaggio e di conseguenza da regolamento la munizione c'era. No no ma ti ripeto tra tante cose positive ci sono anche delle cose che noi dobbiamo migliorare soprattutto in trasferta abbiamo dei blackout, dei momenti in cui commettiamo degli errori ingeni degli errori dove regaliamo situazioni importanti agli avversari anche l'occasione che ha avuto Bastien in quella circostanza su un rilancio lungo di Frattali dove la palla l'avevamo noi e c'è stato un errore che ha permesso a Bastien di portarsi a tu per tu con Storari. Ci sono stati dei momenti dove la squadra aveva acquisito quella consapevolezza, quella continuità dove veramente concedevamo poco e ci sono dei momenti come questo inizio di girone e di ritorno dove tra Crotone e stasera sicuramente abbiamo commesso degli errori individuali importanti che a Crotone abbiamo pagato a caro prezzo, oggi fortunatamente un po' meno. Ti ripeto, il secondo tempo a prima mezz'ora non abbiamo fatto il Cagliari con un uomo in più dovevamo girare palla velocemente, attaccare gli spazi, avevamo una squadra con otto uomini dietro la linea della palla quindi di conseguenza c'erano pochi spazi centrali dovevamo allargare il gioco e da lì cercare anche più precisione più qualità nei cross e anche la scelta poi nel finale di mettere cerri perché naturalmente avendo Sao e Farias piccoletti anche se poi andavamo al cross facevamo fatica a impensierire giocatori bravi fisicamente come Gidai e Migliorini. È stata una settimana non facile perché comunque ho cercato di mantenere la squadra lontana dalle mie emozioni, dalle mie faccende pensando a preparare la gara nel miglior modo possibile, cercando di dare ai ragazzi solo informazioni per quelle che dovevano fare in campo. Però le emozioni sono state forti, per non dire fortissime, è normale, è stato strano sedermi dall'altra parte della panchina e per quanto riguarda l'accoglienza la capisco perché quando si finisce un amore, soprattutto per come è finito, è normale che ci sia questo tipo di reazione e quindi le accetto e si va avanti. Noi ci lavoriamo però lì è un cross, l'avversario che salta più alto di te la prende lui, palla sul pallo e respinta a gol. Lì sono duelli individuali che fai fatica ad allenare, nel senso che noi facciamo vedere le situazioni che fanno gli avversari, come si dispongono, le qualità fisiche, gli schemi che fanno, tutte queste cose qua. Poi lì sono frazioni di secondo dove un giocatore straordinario come Castaldo ci sta che salti più in alto di di Cepitelli e prenda la palla. Le scelte iniziali sono state quelle di sfruttare innanzitutto i giocatori più in forma del momento, quindi reputo in questo momento Gio Pedro, Farias e Saula davanti, quelli che sono nella miglior condizione possibile, anche perché immaginando che potessero comunque giocare dietro con Gidai, Chiosa, Biraschi e Puccino, magari la velocità, l'imprevedibilità e il non dare tanti punti di riferimento poteva mettere in difficoltà l'avversario e soprattutto far giocare Balzano e Barrega sugli esterni, spingere molto sulle fasce, ed è quello che hanno fatto soprattutto Antonio Barrega il primo tempo, l'ha fatto in maniera egregia. Sicuramente il centrocampo ha, sia qualitativamente, in giocatori come Cavazzi, come Bastien, sicuramente sbaffo, aspetta, finisco, giocatori sotto l'aspetto tecnico sicuramente di qualità importanti per la categoria. Poi abbiamo D'Angelo e Arini, che sono due giocatori che hanno caratteristiche, che in questa categoria ci vogliono come il pane. La difesa è stata il reparto che ha più sofferto inizio stagione, vuoi infortuni, vuoi assestamento, eccetera, eccetera. Paradossalmente nel momento in cui, nel maggior momento di difficoltà, con l'arretramento di Gidai, la squadra ha trovato grandissimi equilibri. Davanti ha sempre fatto bene, perché è una squadra che ha attaccanti importanti, che ha sempre segnato con continuità e anche quando perdeva non meritava e comunque creava tanto. Nel momento in cui ha trovato questi equilibri sono venute le vittorie, eccetera, eccetera. Quindi adesso il reparto difensivo è un reparto che sta dando grande affidabilità. Io parlavo un po' del passato e delle difficoltà che c'erano state nei primi tre mesi della nuova stagione. Pisacane ha avuto un problema fisico domenica, è uscito per una forte contusione e soprattutto avevo bisogno di più spinta. Quindi con Balzano e Barreca, perché ripeto, giocando a specchio c'era grande assemblamento centrale. Gli sbocchi c'erano solo esternamente e quindi avevo bisogno di più spinta. Sì, sì, ti ripeto, le strategie iniziali era vedendo come aveva affrontato le altre gare l'Avellino. Quindi comunque mi immaginavo una squadra propositiva che avrebbe fatto comunque, avrebbe giocato a viso aperto. Di conseguenza avremmo avuto gli spazi che poi abbiamo avuto, soprattutto in velocità, nelle ripartenze. Quindi giocatori velocissimi e rapidi che non danno riferimenti come Sau e Farias potevano mettere in difficoltà. E alla fine invece con una squadra con otto giocatori schierati negli ultimi 25 metri è normale che avevo bisogno di caratteristiche diverse. Quindi più fisicità e quindi l'ingresso in campo di Cerri e Melchiorri. Allora, per quanto riguarda la prima domanda, ho aspettato un po' perché avevo, ho dovuto fare un cambio forzato di Gennaro che mi ha chiesto il cambio. Avevo ancora due giocatori con degli acciacchi vari e quindi ho aspettato fino alla fine per fare il terzo cambio e quindi giocarmi la carta Cerri proprio perché avevo paura di poter perdere un uomo da un momento all'altro. Fortunatamente ha pagato la scelta. Il campo era viscito, scivoloso, quindi nel momento in cui la palla picchiava terra, schizzava, rimbalzava, era molto veloce. Quindi a volte il controllo, lo stop era un po' difficoltoso. Sì, sì, ma io questo l'ho detto. Quindi è normale che ognuno di noi vorrebbe vincere le gare in parità numerica proprio per non dare adito a nessuna riflessione particolare. Ti ringrazio per i complimenti, nel senso che la mia squadra ha tanta qualità e lo sta dimostrando, esprimendo un bel calcio. A dimostrazione che quando hai giocatori di grandissima qualità tutto è più facile e quello che proponi viene poi messo in campo. Ti ripeto, comprensibili. Quando c'è grande affetto, grande stima tra delle persone e poi il distacco è doloroso per un motivo o per un altro. È comprensibile. Quindi l'ho detto anche ieri, ognuno poi decide in base a coscienza, in base a quello che sente giusto fare. Quello la vita non è bianca e non è nera. È fatta di colori e di sfumature. È a volte difficile spiegare e difficile comprendere. Quindi perciò ci sta. Per quanto riguarda l'Avellino, fare una rincorsa del genere, soprattutto con le pressioni che comunque una piazza come Avellino ti dà. E quindi dal penultimo posto fare una scalata del genere significa che hai dei valori tecnici, morali importanti. E poi ho visto tantissime partite dell'Avellino. È una squadra che se la gioca ed una squadra soprattutto che segna con una certa facilità perché ha attaccanti forti, importanti, che in alcuni sono migliorati anche molto rispetto all'anno scorso. Nel momento in cui ha trovato questo equilibrio se la gioca con tutte. Quindi penso che possa sicuramente entrare nella griglia playoff e soprattutto avere una posizione magari sicuramente migliore rispetto all'anno scorso, di partenza.